Cominciamo dal Teramo, purtroppo non è affatto una buona notizia perché la FIGC ha confermato l'esclusione del campionato di Serie C del Teramo, non solo del Teramo ma anche del Campobasso che erano state bocciate la scorsa settimana dalla Comisoc. Ora il Teramo potrà ricorrere al collegio di garanzia del CONI e successivamente al TAR. Parliamo ora del Pescara perché dopo Saccani, Milani e De Marino, un altro difensore per chiudere la batteria degli esterni bassi dell'Icari ha infatti definito con l'Atalanta il prestito secco del terziero destro Davide Ghislani, ne abbiamo parlato tantissimo in questi giorni. Il classe 2001 che la scorsa stagione si è messo in evidenza nella Turris, 26 presenze nel girone C del campionato di Serie C e di proprietà dell'Atalanta arriverà in prestito secco, manca solo il crisma dell'ufficialità. Centrocampo saltato della latta già dalla mattinata di mercoledì, il DSB Cazzurro ha subito virato su Davide Mazzocco legato per un'altra stagione alla Cittadella. La classe 95 non rinnoverà, ieri a Milano l'incontro con l'agente del calciatore Augusto Carpegiani, sono attesi sviluppi. Si tratta anche per il 29enne Igor Radrezza in uscita dalla Reggiana, c'è tuttavia una clausola da pagare per liberarlo pari a 70 mila euro. Dell'Icari ha risposto ok, ma solo in caso di promozione in Serie B, insomma situazione da monitorare, da seguire. C'è sempre in piedi però la trattativa per Salvatore Pezzella di proprietà della Roma, ex Siena, Modena e Reggiana. C'è già l'accordo con il club giallorosso e anche col procuratore del metodista Patrick Bastianelli. In giornata si attende la risposta del regista che aspetta la chiamata di un club DB. Nuovo contatto nel frattempo e questa è la novità nelle ultime ore con Giovanni Tateo, procuratore del trequartista Pasquale Maiorino, espressamente richiesto dal neotecnico del Pescara Alberto Colombo. Maiorino ha ancora un anno di contratto con la Virtus Francamilla e spinge per un biennale. Dell'Icari ha offerto un anno con opzione legata al verificarsi di una delle seguenti condizioni. Dieci gol nel prossimo torneo e non più dodici, oppure promozione in B con il 60% delle presenze del calciatore. Portiere, la scelta è tra un under o un over da affiancare a Daniele Sommariva, classe 97 che è stato ingaggiato a titolo definitivo dal Monza. Piace il 25enne Tommaso Nobile, 38 presenze la scorsa stagione nella Virtus Francamilla, oltre 160 in C con Athletic Carpi, Lucchese, San Benedettese, due stagioni orsono. È stato compagno di squadra del Neobiancazzurro Facundo Lescano, Provercelli e Virtus Francamilla. Resta comunque in piedi l'opzione Chiorra, classe 2001, lo scorso anno al Taranto, 35 presenze, ma di proprietà dell'Empoli. Questa sera di ritorno da Milano Dell'Icari ne parlerà approfonditamente con Colombo che prenderà una decisione. Infine è cambiata la formula del trasferimento del terzino sinistro Davide De Marino dalla Juventus, che arriva non più in prestito biennale, ma in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del Pescara in Serie B.